Tutti conosciamo il famoso detto che la storia si ripete. Ma pochissime immaginare che gli architetti avrebbero tornato a trendi da più di 5.000 anni fa. L'architettura di Time Links in Dubai ha creato un progetto interessante basato sui tempi antichi chiamati Ziggurats. Ziggurats sono stati in circa 3000 B.C. in la regione di Mesopotamia. Usando la base idea di una struttura di piramidi, Time Links ha creato renderazioni di una superficie 100% self-sustainable e un super struttura totalmente ambientale. La città è piena per avere più di 1 milioni di abitanti. Un'altra unica cosa è l'idea di un sistema di transporte di nuova che si riuscita in corso e verticalmente all'interno della città rendendo le caratteristiche completamente non necessarie. Il Ziggurats serve come un esempio perfetto di come potremmo usare innovazioni dal nostro passato e tecnologie di oggi per creare nuove avanti in nostra società. Il Ziggurats serve come un esempio perfetto di come potremmo usare innovazioni dal nostro passato e tecnologie di oggi per creare nuove avanti in nostra società. molti obiettivi e tecnologie di oggi per creare nuove avanti in questa società è la una esperienza pubblicana come appena e tecnologie di oggi per creare nuove avanti in questa società